La stagione turistica 2024 di fatto è già partita, si registrano già le prime presenze di visitatori sul territorio e di conseguenza si rende necessaria una specifica programmazione della stagione da condividere con il tessuto economico della città. Così oggi in una nota il consigliere comunale della DC Giuseppe Catanzaro chiede all'amministrazione di conoscere quali saranno le linee guida, le innovazioni e l'indirizzo della programmazione della nuova stagione turistica. Per Giuseppe Catanzaro risulta di fondamentale importanza iniziare a definire e a sciogliere adesso tutta una serie di nodi che saranno decisivi per l'esito positivo o negativo della stagione turistica stessa. Su quali innovazioni si punterà rispetto alle stagioni precedenti e quali azioni di rottura rispetto al passato saranno intraprese ed ancora che tipo di azioni strategiche verranno messe in campo per incrementare i flussi di visitatori rispetto ai numeri registrati nelle stagioni precedenti. Sono questi gli interrogativi sollevati da Giuseppe Catanzaro per il quale la stagione turistica 2024 dunque deve necessariamente registrare un cambio di passo rispetto al passato migliorando innanzitutto gli aspetti legati alla fruibilità e all'accoglienza per mettere finalmente in campo una destagionalizzazione concreta già a partire dalla primavera in corso.